Ma per me il pallone è tutto. Sì, eh? Sì. È una filosofia di vita, eh? Come fai a non amare il pallone? Come fai a non amare la cosa che si impara ancora prima di parlare? Mi piace il sudore, allenamento, spogliatoio. Matteo, sai che per lei da ragazzino si allenava con i barattoli? Con i barattoli? Barattoli, lattini, tutto quello che mi capitava, c'aveva una lira. Beh, io da quel giorno, da quando l'ho saputo, ogni giorno mi faccio mezz'ora di palleggio. Con i barattoli? No, con quello... Ecco, ora ti faccio vedere. Perché il palleggio è importante. Si abitua al controllo. E se lo riesci a riportare anche nella vita il palleggio come concetto, è meraviglioso. Ah! Eh, eh! Mi cede... Mi cede il ginocchio.